Li ripudia perché è ignorante Manco che ne pensi di Vucinic Vucinic secondo me ha dato il suo Vucinic Vucinic Ha dato il suo negli anni d'oro Non sa più tenere la palla ragazzi Non sa più tenere la palla Si è ritirato e la sa tenere la palla L'ultima volta che ho contato i secondi Possesso palla sotto i piedi ragazzi Se volessi fare una battuta Sempre sotto i piedi la palla Sempre sotto i piedi E mi dice una squadra in cui ha giocato Vucinic Internet Volevo dire intro Non ha giocato nell'inter Tantomeno nell'internet bro Non ha giocato nell'internet Che cazzo ridete ragazzi così non smetterà mai No no Io non mi faccio di certo Non prendo Non prendo le risa Dei followers come carburante Per continuare a fare il cazzo che voglio Ah si? Certo che no Ah ho capito I tuoi occhi però sono molto cambiati Sono diventati dei peperini Vabbè se volete sapere opinioni mie riguardo il calcio Fatemi sapere che io le do Tu le dai? Si Te ne faccio una Chiedemi quello che cazzo vuoi Mario E questa cosa che il Bayern Monaco ha contro la sua volontà ceduto Lewandowski E averlo sostituito con Mané Che non è proprio una prima punta di spessore Non è proprio una prima punta Cioè come la vedi questa sistemazione offensiva del Bayern È raffazzonato o può andare da qualche parte? Come tu pensai nel calcio è tutta una questione di chi fa cosa E Mané di cose ne ha fatte tante Nonostante Chevrolet Quello che è stato dato Lewandowski Lewandowski è sempre stato forte Però è forte in una cosa sola Tirare Questa persona qua sa tirare bene È meglio di tutti Ma Mané diciamo che è un po' un Jack of all trades Come dire Uno che nonostante non si specializza in nulla Il possesso parla ai passaggi R2 Comunque lui R2? Con cui si tira con quello no? Si tira piazzato Io sono nerd quindi parlo così Lui sa fare più cose È come se tu fossi bravo in tante cose Però sei un 6 Io sono bravo in una sola e solo un 10 In un gioco come il calcio Che come sei due e fatto di ruoli È meglio essere 6 in tante cose più che 10 in una Altrimenti vai con la maratona Con i piedi slacciati e non vale un cazzo Stronzo Stronzo è chi l'hai detto? La maratona Un po' di rispetto eh Io sono un opinionista molto neutro Ok ok Il tuo calciatore preferito? Toldo Eh sì Aspettavo soltanto che lo dicessi È strano avere un calciatore preferito che un portiere Questo dico Eh io sono una persona strana Mi puoi dire un calciatore non portiere che ti ha affascinato? Bobo Pieri? No Non lo accetto Perché no? Perché ne abbiamo parlato prima di Bobo Pieri Ah per questo pensavo perché Per l'ultima storia è successa Quale storia? Bobo Pieri non ha mai avuto scandali in vita sua È andato da un bambino di colori che ha fatto Bobo Bobo No E lui si è incazzato Ma veramente ha fatto così? Ha fatto questo Vergognoso È il grande piccolo Guaglia Guagliarella Guagliarella è il mio preferito non portiere Sampdoria scende quest'anno sai? Eh per me salire è come scendere Se ti dico che scende Per te scendere è come salire In caso Se vuoi veramente dirla Una vale l'altra No Se scende vuol dire perché scende Vice versa Sì comunque scende in serie B Eh B di Best No A di A che schifo No 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 in A guadagnano anche più soldi Si vince proprio A me piace che la Sampdoria comunque Lei fa sempre l'anno sabbatico io lo chiamo L'anno sabbatico Non l'ha mai fatto Non scende da un sacco di tempo la Samp in B È sempre stata in A la Samp Vabbè quello che tu non capisci è che Tu hai mai seguito la Samp Capisco Sì Io pure Dai tempi di Kuduzov Pure io Quelli là proprio Quelli di questi disattichi che hai detto E che anni sono? Gli 80 e 70 70 e 80 2006 2006 2006 Per modo di dire Cioè sono finiti nel 2006 No Poi iniziati Un po' un calciatore giocare negli anni 80 E pure nel 2006 No Vabbè Tu non capisci un cazzo Ah ah io non capisco un cazzo Vabbè mi piaceva un sacco Kuduzov era fortissimo Kuduzov Buttana della madonna Kuduzov Non Kuduzov Quello è un pokemon di scarlatto Sembra Eh Kuduzov era forte Kuduzov Kuduzov Ogni tanto Ma ricordo che Kuduzov Nelle interviste più che altro Kuduzov Nelle interviste Metti rovesciata Rovesciata vai Rovesciata di Kuduzov Bellissimo Ma questo è Vabbastin No questa è Van Basten Perché se scrive Kuduzov Rovesciata Non è il nickname di Kuduzov Van Basten Van Basten è un calciatore Famosissimo degli anni 80 Ah 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 mi confondevo Van Basten non Kuduzov Un idiota di merda L'ho visto un milione di volte Scusate and the water grabs mea against den bosch guada qua Jan van Gester is the goal and all he can do is stand by and wonder ha vista? ha vista la porta? nel mio fantacalcio ho tolto in porta van basten in attacco avevi? oh sono ritirati tutti e due eh ma il fantacalcio sai che è di fantasia ah è un fantacalcio tutto tuo no è di tutti lo sai però che van basten cioè dovrebbe giocare in italia per il tuo fantacalcio mentre qua giocava nel no ma io sono al vpn nel che maglia è questo? bayern monaco no bro van basten olanda 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 è un consiglio non è l'olanda questo è una squadra olandese la più forte la più famosa e rinomata squadra olandese amsterdam sta ad amsterdam però non si chiama amsterdam si chiama come un sapone altair quella è una tua ex no quella è altair eh si dai è facile lo spruzzino spinelli ajax ajax comunque ha giocato pure in italia van basten dove? nell'inter maggiaddio no ah ehm napoli napoli? napoli no ehm inter eh già detto prima milan eh si 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 non mi piaceva però cosa? niente cosa hai detto? non ho detto niente non hai detto qualcosa sottovoce non ho detto niente si l'hai detto e poi mi hai guardato così di voler dire no non ho detto niente non ho detto niente ti giuro sulla madonna bro tu hai detto qualcosa in più non l'hai detto giuro sulla madonna mi pulisci quel culo eh vabbè pulisci pure ma non ho detto niente comunque van basten ti piaceva dicevi mi piaceva e nel mio pantacalcio lui attaccante insieme a eh Zinedine Zidane e Del Piero eh come centrocampista il grande piccolo Quaglia eh Quaglia è un attaccante no ah vero centrocampista oltre Quaglia eh forse Zinedine Zidane no che stupido che sei sempre eh cosa come si chiama? quello che è morto Moamba a 31 anni a 31 anni è morto chi è morto? calciatore si recentemente si Morosini Astori ah Astori Davide Astori si lui lui non era un centrocampista era un diavolo scusami era un difensore Astori era un difensore si sei sotto? Astori era un difensore arrivo 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 eh vado a mangiare però ti lascio con questa massima mia il calcio è uno sport per pochi giocato da troppi cosa hai ordinato? sushi merda vabbè ha fatto il dito medio l'abbiamo